La mia classe di italiano Le persone che vivono a Milano rappresentano proprio lo stereotipo italiano. Sono belli, sono tre bei disegni, ma non si è ancora più. Mi serve un lavoro e si trova qualcosa per rimanere qua. E' la tua vita prima di venire in Italia? Com'era? Una merva. No, esercizio sull'imperativo. Lasciatemi! Ottimo percorso con ottimi risultati. Arrivederci in Italia. Però adesso voglio rimanere qui. Ci vedremo. Grazie a tutti.